E' polemica l'Iceo Marconi di Pescara a due anni dalla consegna del nuovo edificio realizzato sulle ceneri del vecchio dichiarato inagibile. Dopo l'inserimento graduale degli studenti alla collocazione negli anni scorsi di classi in plessi alternativi, quest'anno pare che la dirigenza abbia deciso in attesa della conclusione dei lavori dell'ultimo lotto di ricorrere a turni di scuola pomeridiana per gli studenti dell'indirizzo linguistico, un provvedimento che non è stato affatto gradito dai genitori, come ci dice Rita Dideo, che se ne fa portavoce. Hanno comunicato, noi sappiamo che questa scuola è stata ricostruita totalmente, quindi alcuni ragazzi erano dislocati in altre scuole, in particolare l'Iceo Linguistico era dislocato presso il Mantone. A luglio la dirigente ha comunicato che tutti i ragazzi dislocati sarebbero rientrati in sede. Ieri invece abbiamo ricevuto la comunicazione che il Liceo Linguistico dovrà effettuare un orario pomeridiano, sempre qui in sede, il che ha messo in subbuglia e in agitazione non solo i ragazzi ma anche noi genitori, perché i ragazzi non possono rimodulare la loro vita cinque giorni prima dell'inizio della scuola, vedere questo orario che per loro non è per niente confacente, ma non solo per loro, anche per noi genitori, che oltre a farci carico dei vari abbonamenti, dei mezzi, anche dobbiamo preoccuparci che i ragazzi usciranno quando sarà già notte e quindi molti non sono di Pescara ma sono di fuori come mia figlia di Ortona che devono affrontare 40 minuti se non di più di viaggio di mezzi. La maggior parte di loro, aggiunge Minorenne, ma il problema più grande è che c'è stato comunicato cinque giorni prima dalla riapertura della scuola. Giustamente c'è un rimpallo di responsabilità tra la scuola e la provincia, da un lato si è sentito dire che mancavano dei collaudi, oggi ho chiesto alla dirigente di essere ricevuta, non mi può ricevere, come so che anche molti altri genitori non sono stati ricevuti perché è impegnata, dicono che non sono stati finiti i lavori, quindi non sono terminati i lavori o mancano i collaudi, cioè questi ragazzi si trovano veramente a vivere un disagio enorme, perché se pomeriggio devono stare a scuola fino a sera non potranno più svolgere le attività extra scolastiche. Ci siamo un po' sentiti presi in giro, perché secondo noi la dirigente sapeva.